Musica Buonasera a tutti, buonasera dal TG Prato, la cronaca per raccontarvi che c'è stata un'altra rapina a mano armata, questa volta nel mirino dei malviventi è finita una profumeria di Viale Montegrappa, sentite Claudio Vannacci. Non si ferma l'ondata di criminalità che ha colpito la zona di Viale Montegrappa, sabato sera due banditi armati di pistole a volto coperto hanno rapinato la profumeria Caleia, sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia ma ormai dei due malviventi non c'era più traccia, la rapina è avvenuta intorno alle 19 vicino all'orario di chiusura del negozio, i banditi hanno fatto irruzione e dopo aver minacciato con le pistole i titolari le hanno rinchiusi in una stanza, è stato il padre di un commerciante che ha il negozio in zona il prima ad accorgersi di quello che stava accadendo e a dare l'allarme al 113. Pochi giorni fa era stato rapinato il supermercato Margherita Conad di Via Santagonda, nell'occasione i banditi avevano anche sparato una fucilata contro il titolare, sempre nei giorni scorsi invece il parroco di San Giuseppe aveva dispensato i fedeli anziani dal frequentare la novena proprio a causa dei troppi scippi. Cresce quindi la rabbia tra i commercianti della zona, come tanti miei colleghi dice uno di loro aspettiamo il nostro momento, se dovesse accadermi qualcosa del genere aggiunge, «Giuro che chiudo e me ne vado via da questa città che somiglia più a Gotham City che a una città normale». Intanto ieri sera un'intera famiglia di Mercatale di Vernio è rimasta intossicata dal monossido di carbonio e è accaduto in un appartamento di Via Bisenzio. Il primo a sentirsi male è stato un uomo che si è accasciato o privo di conoscenza. I soccorritori lo hanno portato d'urgenza al pronto soccorso, ipotizzando che potesse trattarsi di un'intossicazione da monossido di carbonio. Gli esami effettuati sugli altri quattro familiari hanno in effetti rilevato tracce elevate di monossido nel sangue di ognuno di loro, così anche per loro è scattato il ricovero, mentre l'uomo che si è sentito male per primo è stato trattato in camera iperbarica. Disavventura lieto fine per un gruppo di scout pratesi bloccati da una tormenta di neve dopo essersi persi nei boschi del Mugello. Si tratta di nove ragazzi e ragazze con età compresa tra 12 e 16 anni che ieri erano impegnati in una escursione. L'allarme è scattato intorno alle 18 quando nella zona era in corso un'abbondante nevicata con vento molto forte. I capi, non vedendoli arrivare, hanno dato l'allarme al soccorso alpino e subito si sono mosse due squadre della stazione Monte Falterona. Nel frattempo i nove ragazzi avevano incontrato un gruppo di escursionisti che li avevano messi al sicuro in un rifugio dove sono stati raggiunti dai soccorritori. Tra loro anche un medico. Vista l'ora tarda e soprattutto la situazione meteo è stato deciso di trascorrere la notte al riparo nel rifugio. Stamani poi è intervenuto l'elicottero Pegaso della Asla che ha evacuato i nove ragazzi. Ha perso il controllo dell'auto, forse per un malore, si è schiantato contro un mezzo in sosta. In gravi condizioni il conducente di una Fiat Punto che ieri sera poco dopo le 21.30 è rimasto vittima di un terribile incidente all'incrocio tra via Abba e via Colletta nella zona della Pietà. L'uomo, 35 anni, originario di pesce, è stato soccorso dal 118 in codice rosso ed è tuttora ricoverato in prognosi riservata. Dai primi accertamenti compiuti dalla Polizia Municipale, sembra che l'incidente sia stato provocato da un'improvvisa perdita di controllo dell'auto da parte dell'uomo e per questo viene ipotizzato il malore. Il mezzo si è poi schiantato contro un'auto in sosta. Emergenza, bocconi avvelenati, 11 cani morti nel 2014 per aver ingerito esche contenenti sostanze tossiche. 11 cani morti dopo aver ingerito esche avvelenate. I casi di avvelenamento sono stati però 16. Sono i numeri del 2014 resi noti dalla Polizia Provinciale che più volte nel corso dell'anno ha denunciato il triste fenomeno di bocconi avvelenati abbandonati un po' ovunque con l'unico intento di colpire i cani e nella maggioranza dei casi l'intento è purtroppo riuscito. La maglia nera dei cani avvelenati, 4, va a Montemurlo dove è stata rinvenuta una sola esca contenente sostanze tossiche. A Prato, 3 i cani morti per avvelenamento, 4 le esche ritrovate, gli altri casi a Vaiano, Poggio a Caiano e Carmignano. Cani al centro anche di truffe e furto. Nel 2014 la Polizia Provinciale ha elevato 6 sanzioni per violazione della tutela e del benessere degli animali. La Polizia Provinciale, ricevute le segnalazioni, procede a inviare i campioni di organi prelevati dagli animali morti o le esche all'Istituto Zooprofilattico per le analisi tossicologiche. Accertata la presenza di sostanze tossiche, gli agenti svolgono le indagini per risalire all'autore visto che l'utilizzo di bocconi avvelenati è un reato penale. L'uso dei bocconi avvelenati per quanto riguarda le zone agricole e boschive è da collegare a una gestione errata della fauna selvatica e delle emissioni di animali di allevamento a scopo di ripopolamento, mentre in ambiente urbano fa spesso seguito a dissidi condominali. Sono sempre più frequenti infatti i casi di animali domestici avvelenati all'interno di proprietà private, giardini, recinti, strade. Inutile dire che gettare bocconi avvelenati negli insediamenti urbani, nei giardini e nelle strade rappresenta un grave pericolo anche per l'incolumità delle persone. Comune di Prato e Casa Circondariale hanno firmato stamani una convenzione che riguarda l'inserimento lavorativo dei detenuti. Un lavoro fuori dal carcere per riscattare una vita difficile e soprattutto per cominciare ad abituarsi al mondo esterno. Stamani il sindaco e il direttore della Casa Circondariale Ladogaia hanno firmato la convenzione che a partire dal 2015 e per due anni consentirà a una decina di detenuti di svolgere lavori di pubblica utilità come la manutenzione dei giardini, delle strade e il restauro di siti pubblici. Sono attività importanti perché coniugano l'aspetto dell'inserimento sociale dei condannati ma anche la possibilità per gli stessi di poter fare e svolgere attività e lavori di pubblica utilità per il comune. Mi sembra che è un binome importante che possa finalmente poi dare spazio e attuazione a quelle che sono le previsioni della Costituzione sul rinserimento sociale. Ad usufruire dell'opportunità di lavoro saranno i detenuti per i quali sussistono le condizioni, regime di semilibertà, affidamento in prova al servizio sociale, permessi, licenze. Ogni detenuto lavoratore riceverà per compenso una borsa lavoro che si traduce in qualche centinaio di euro. Una forma anche di unità per il comune di Prato che ha la possibilità di utilizzare persone per fare quei lavori di pubblica utilità come sistemare una scuola, mantenere un giardino, insomma fare questi piccoli lavori che permettono appunto di avere una città più curata e un ulteriore passo. Quindi diciamo è un esperimento, la prima volta appunto il comune e la casa circondariale fanno questo tipo di accordo che è previsto già invece con convenzioni che sono già state fatte da altre città. Intanto le condizioni di vita all'interno della Dogaia sono migliorate nell'ultimo anno. La popolazione è passata da quasi 700 a 570 detenuti per il 45% stranieri. Questo sicuramente è ottimale sia per il lavoro del personale sia anche per le condizioni di vivibilità all'interno dell'istituto. Anno nuovo, raccolta nuova per il comitato promotore della Banca Popolare di Prato. La Consob ha approvato in tempi rapidissimi la richiesta di proroga arrivata il 23 dicembre. La scadenza di questa delicata fase del progetto prevista inizialmente per il 20 novembre è stata dunque prorogata il 20 maggio 2015. Una iniezione di fiducia per il comitato promotore della Popolare di Prato che ha già dato il via a un insieme di iniziative con l'obiettivo di individuare le quote necessarie per raggiungere i 10 milioni, soglia minima stabilita da Banca d'Italia per attivare uno sportello di un istituto di credito di natura popolare. L'obiettivo non è distante ma pur sempre non facile da raggiungere in un periodo così complesso per l'economia. Come previsto dalla normativa, la quota minima per diventare soci sottoscrittori è di 2.500 euro. la massima all'1% del capitale sociale sottoscritto al termine dell'offerta. Per avere informazioni o scaricare il facsimile della richiesta di sottoscrizione è sufficiente collegarsi alla sezione diventasocio del sito www.bancadiprato.it occorre ricordare che la sottoscritto del sito www.bancadiprato.it